buona sera a tutti sono luigio naracus e preferite in come posso dire in camera di blazy cam che potete vedere la che è intento a metterla a posto i video che abbiamo registrato insieme e benvenuti al pull or note riguardante la bacia di tranzi il microfono è fighissimo lo so un regalo di blazy mi piace tenere il microfono comunque a parte le cavolate gli scherzi andiamo ad analizzare le due baci di due dual fest in questi due video partiamo con la bacia dual fest super avente al suo interno trunks evolution più tutti i pg dockham festival ebbene si abbiamo un nuovo dual full dockham festival il che da un lato è buono dall'altro presenta alcuni piccoli problemi i problemi si chiamano pg vecchi come il cucco abbiamo infatti 7 pg in rate up i quali sono le due versioni di veget blue il fisico e il tech trunks rage int vegeta blue evo future gone fisico gogeta agl quindi gogeta blue e poi il nuovo trunks evo rate sempre 10% andiamo qui a analizzare in che caso conviene pullare su questa bacio in generale se ci conviene pullare vi dico a meno che non abbiate molte 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 storno vogliate provare come farò io la mono multi e poi ve ne fregate altamente della bacia non è una bacia su cui consiglio molto di pullare ah sì dei pg che possono andar bene per assurdo per il team di zamasu ovvero veget e gogeta che attualmente sono probabilmente due dei pg nel top di pt team di zamasu non quello che mi piace più giocare però nel top di pt si giocano senza ombra di dubbio però ha davvero poco da dare a trunks stesso oltre il fatto che molti pg ormai sono tornati tipo 50 volte sono totalmente inutili o quasi abbiamo vegeta fisico e trunks rage int sono pg che in futuro avranno un esa però non è detto lo avranno presto potrebbe essere un esa abbastanza in futuro ragazzi fino ad allora c'è poco da fare e sono curioso di vedere come potrebbe essere un esa di veget fisico perché dovrebbe cercare di superare veget tech che non è facile trunks rage ha bisogno di un miracolo per diventare un pg buono ci sono stati miracoli in questi esa assolutamente però qua ce ne vogliamo davvero davvero grosso abbiamo poi veget tech che rimane oggi il miglior tour per danno del gioco seppur ragazzi nelle road sia una cacata pazzesca salvo dello full ability e farsi dei team particolari nelle road non lo giocherete mai e questo comporta che se non l'avete ability alta preferirete molto spesso vegete l'r se ti era lui quindi anche questo è un pull un po' particolare se non lo avete pullare per lui abbastanza una cacata anche quello perché ho ability uno davvero lascia il tempo che trova abbiamo poi vegevo vegevo da quando è uscito veget fisico a vegeta scusa scusate fisico ha perso come leader pure riguadagna come pure agl che però allo stesso tempo al suo interno ora doppia che le caulifla come leader quindi è una situazione un pochino delicata anche per quel team però può ancora dire la sua non è proprio il pull migliore che potreste fare però è tra i meno peggiori di questa batch blazi vuoi dire qualcosa su gohan fisico o saltiamo? fa caga ecco avete avuto il commento per chi non l'ha sentito fa caga quindi saltiamo totalmente gohan fisico che se l'ho pullato l'ha presa per il culo finale perché trunks la sua versione è migliorata abbiamo poi gogetta blu allora gogetta blu stand alone parlando solo di lui rimane uno dei migliori pc del gioco il problema è che non lo giochi da nessuna parte l'ho già detto qualche video fa non mi ricordo quali preciso probabilmente nell'analisi di black avevo il timore che potesse non essere più giocato neanche il realm e in parte ho avuto ragione ovvero probabilmente non ho ancora fatto tutti i calchi il realm migliore continua a giocare gogetta blu però non è il realm più stabile con cui fareste la road perché avrebbe anche vegetek vegetek nella road no mentre nella road il doppio zamasu agl si 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 tutta la vita porterò infatti quella road per farvi capire e quindi è un pg che ha davvero pochi spazi ma in quegli spazi fa davvero tanto è un nil cercare lui magari in futuro ci saranno nuovi team in cui si gioca ma attualmente è davvero poco utilizzato il che è davvero un peccato ultimo ma non per importanza è trunks evolution ragazzi trunks evolution è un pg molto particolare anche blasi ve ne parlerà oltre ai video in cui ha già parlato perché lo stiamo l'abbiamo provato insieme oggi per tanto troppo tempo per riuscire a fare alcune cose è un pg particolare perché? perché in realtà non sa neanche lui di preciso cosa fare dopo la trasformazione è un pg ottimo fa danni davvero alti facilmente senza problemi il problema viene nell'active active da nuke totale che basta e avanza negli eventi normali a chiudere qualsiasi fase sebbene supportata il problema è come lo vedo nelle road lo vedremo anche nell'analisi nelle road penso che l'active verrà usata davvero solo l'ultimo turno è un pg molto diverso da zamasu che andrà immediatamente in fase finale e farà male ma tanto male è un pg un po' più complesso più adatto ai one shot quindi ai team rapidi e può funzionare diciamo può funzionare buono da pullare da chi ha molti pg ibrid seian in quanto tecnicamente è anche il leader di quella categoria da sì 120% al posto di stats più alte però si becca lui e si becca anche l'alto trunks trunks lr e magari in futuro qualche nuovo pg un boost decisamente interessante quindi tenetelo comunque d'occhio nonostante tutto questo però non reputo questo una batch in cui investire molto pullateci il giusto solo se avete tante stone gogetta gl anche se è tornato a questo punto tornerà molto probabilmente in altre batch mi dispiace dirlo ma come quasi sempre le batch extreme sono migliori io personalmente in questa batch farò una multi massimo due mentre in quella di zamasu il mio piano era fare un intero giro quindi state attenti non la vedo la batch della vita anche perché questo trunks tornerà di sicuro come leader di un eventuale super v4 sì ecco come leader di un super v4 è molto interessante là è forse a oggi uno dei posti in cui ci si diverte di più a usarlo però sempre la solita storia non è un pg la cui batch a mio avviso vale troppo da questo mi ringrazio di seguito e noi ci vediamo tra non molto con l'analisi e il pull or not della batch di zamasu un saluto e impegnato